buongiorno mondo tutto bene siamo tutti in pace andiamo tutti d'accordo niente questo piccolo video solo guardate qualche concia avete visto ho fatto un volo chiato la faccia sul bidet sul coso lì come si chiama è sul bidet il rubinetto del bidet caduta faccia in avanti sono scivolato sul tappeto sì non che ve ne possa fregare qualcosa però guardate che faccio guardate che taglio vabbè niente questo piccolo video per dire chiara d'alessandro è sparita se ne andate in vacanza domani nevica nevicherà in agosto anzi a luglio fine luglio nevicherà perché da che cos'è 3 4 anni che guardo i suoi video anche se mi è scaduta un po ma insomma cosa dire in poche parole è partita per il mare con il suo compagno e con come si chiama pianeta stefanino lì c'ho una cosa sul video e in poche parole chiara è scomparsa dobbiamo mettere una cosa come si dice tesoro scomparsa come si dice dai aiutami aiutami non non the walking dead beh potrebbe anche essere ma non è quello aiutami alla rimissi in com'è in inglese dai ragazzi aiutatemi ma chi chi l'ha visto si beh chi l'ha visto ha ragione calzo scusate chi l'ha visto chi l'ha visto chi li ha visti perché oramai insomma sono spariti da 24 32 48 ore vedremo adesso quando ritornerà se ritornerà non lo so magari anche lei come un'altra youtuber ha pensato di prendersi una pausa che ne sappiamo solo il tempo ci dirà ci dirà com'è ecco io ogni tanto guardo qua sopra che c'è i minuti che sto parlando con voi del nulla mischiato con il niente ma va bene così ecco spero comunque che si divertino in vacanza cosa dire buon divertimento chissà che bello il mare a parte che ho visto il mare ma insomma andare al nord al mare non è proprio bellissima l'acqua comunque sempre meglio che stare a casa ecco questo è sicuro io quest'anno di vacanze ne ho già fatte abbastanza e niente non parto quest'anno ho deciso di rimanere a casa ma so io il perché a voi non vi deve interessare perché io sto a casa perché di vacanze ne ho fatte parecchie ecco niente e comunque appunto adesso il titolo di questo video sarà chi l'ha vista ditemi voi se l'avete vista e niente sapete oramai quando uno quattro anni o tre anni che segue una persona e questa sparisce per un attimo chi l'ha vista cioè veramente dai sento una stupida vabbè comunque buona giornata a tutti ciao mondo